Spivey o Spivey a seconda di chi lo pronuncia fu questo pezzo, tra l'altro Victoria Spivey fu una delle prime donne imprenditrici diciamo nel settore discografico perché fondò la sua stessa etichetta discografica chiamata Spivey Records che produce o comunque ospitò in uno delle sue prime incisioni anche il Bob Dylan, una foto da vicino e via che bene vi facciamo ascoltare un pezzo che fu una sua hit di Victoria Spivey che si intitola Dope Head Blues, parla di un delirio di una donna che ormai allo stremo dall'abuso di droghe e che delira, in senso delirio racconta queste cose che ora vi canterò Dope Head Blues 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 Dope Head Blues